Nicola Tuttone Nicola Tuttone Nicola Tuttone Nicola Tuttone Nicola Tuttone Nel solo 2009, e soltanto negli Stati Uniti, 140 istituti di credito hanno dichiarato bancarotta. Nello stesso anno, dopo aver studiato economia, finanza e gestione, dopo averli studiati in Italia, Svizzera e Stati Uniti, mi sono laureato. Ero il prodotto di quel sistema, ed ero stato formato per pensare e agire come il sistema. E beh, visti i risultati, decisi di rinnegare e di fare esattamente il contrario. Decisi di tornare in Italia e di aprire la mia impresa. E il giorno che decisi che tipo di struttura dare alla mia impresa, eravamo in Trento, erano al tavolo. Oltre a me c'erano i miei due attuali soci. Uno, un ingegnere con 15 anni di conoscenza del settore del legno e l'altro, invece, un manager con 20 anni di conoscenza dei mercati esteri. Avevamo background differenti, ma un piglio imprenditoriale eccezionalmente simile. Avevamo il desiderio di fare qualcosa di radicalmente diverso, da così opposto a quello che c'era sul mercato, da poter funzionare. Più che innovare facendo un balzo in avanti, volevamo innovare scartando di lato. Prendemmo quindi un foglio bianco, grande, e tracciamo una linea nel mezzo. Da una parte scrivevamo quello che c'era sul mercato, quello che stava succedendo. Dall'altra parte, esattamente il contrario. E noi avremmo fatto il contrario. 2009. Quindi che tipo di nuove imprese c'erano? Che tipo di prodotti c'erano sul mercato? Beh, tendenzialmente app, social media, Facebook oppure consulenza, riga. Allora noi avremmo fatto un prodotto, avremmo fatto manifattura. Bene, per fare manifattura serve una visione di impresa, una visione di prodotto. Ed è curioso quando uno parla di visione che strizza sempre un po' gli occhi, e quindi noi, alla ricerca di una visione chiara, cercammo la cosa più immediatamente pertinente a visione. Visione, occhi, occhiali. Faremo gli occhiali. Sembrava una boutade, in realtà il mercato dell'occhialeria è molto interessante. Si può sedurre il cliente finale parlando di comfort, parlando di design, parlando di qualità. Dal punto di vista di distribuzione è abbastanza eterogeneo, quindi si può dialogare con ottici indipendenti, si può dialogare con gruppi di acquisto, e quindi sembrava un mercato abbastanza politico da permettere di sedurre e attaccare il cliente da diverse angolazioni. Gli occhiali sono tendenzialmente di acetato o metallo. riga, noi li faremo in legno. Il legno è un materiale nobile, caldo, elegante, molto contemporaneo, e soprattutto il mio socio sapeva tutto del legno. Quindi occhiali di legno sia. E dove si fanno gli occhiali oggi? Tendenzialmente dove costa di meno, quindi in Cina o in Dongguan. riga, noi invece li faremo in Italia, con alta qualità. Ma come in Italia? Tutti fanno outsourcing, vanno a cercare dei fornitori specializzati. Riga, noi invece non solo cercheremo dei fornitori specializzati altrove, ma faremo la nostra manifattura di occhiali, nella quale avremo la proprietà e il controllo. Come la tua manifattura? Tutti vanno a ricerca di economie di scala per mantenere il prezzo basso. Riga, e allora noi manterremo il prezzo alto e i volumi solo attivati dal venduto e dal pagato. Ma come i volumi solo attivati dal venduto e dal pagato? Gli altri fanno il magazzino per essere pronti a inondare al mercato quando chiede qualcosa. Riga, noi daremo al mercato esattamente quello che chiede in poche settimane. Ma come esattamente quello che chiede? Degli occhiali sono tendenzialmente l'80% neri o color tartaruga e in realtà sono tutti uguali. Riga, e allora per la nostra manifattura di occhiali in legno le tre parole chiave saranno design, colore e personalizzazione. Ed ecco come è nata la mia azienda. Ad oggi la mia, la nostra azienda è la ragione per la quale 20 dipendenti della Val Brembana, una sessantina di venditori in giro per il mondo e qualche consulente si alzano la mattina e vanno a lavorare. È la ragione per la quale almeno un migliaio dei migliori ottici del mondo vanno a lavoro con un pizzico di orgoglio in più per quello che fanno. Ed è la ragione per la quale un piccolo grande esercito di consumatori ha deciso di avere il proprio nome scritto sull'occhiale, non quello di qualche di un altro. E nonostante partimo da un approccio provocatorio, da bastian contrario, l'idea che avevamo in testa, o meglio sul foglio, sottendeva un paradigma che era in grado di reggersi se cinque condizioni cardine potevano rispettarsi. E noi aderiamo in modo tenace a quelle cinque condizioni. La prima è che per fare manifattura in Italia bisogna fare un prodotto ad alto valore aggiunto, che quindi può essere venduto a un prezzo alto, ma il prezzo deve essere giustificato dalla qualità. Nel nostro caso la qualità è giustificata da tre elementi, la ricerca e sviluppo, i macchinari e le persone. La ricerca e sviluppo occupò due anni, dal 2009 al 2011, e fu interamente finanziata da capitale privato. I macchinari li sviluppamo ad hoc qui sul territorio. E le persone, mettiamo facilmente assieme un gruppo di persone che erano state lasciate a casa a causa della crisi. Erano persone che lavoravano nel settore del legno, quindi avevano lavorato per molti anni magari prodotti poveri, una gamba del tavolo, una testata del letto. E dovete sapere che per fare un occhiale in legno come il nostro è necessario avere molta professionalità, molta monolità e una cura del dettaglio maniacale. Fu una vera epifania scoprire che, quando andavamo a fare formazione ai nostri ragazzi, loro non solo avevano l'innata capacità di fare quel prodotto, ma guardandone negli occhi sembravano voler dire ne abbiamo la capacità, anzi perché mai nessuno ci ha chiesto qua di fare un prodotto a così alto valore aggiunto. La seconda condizione del nostro paradigma dopo qualità è la velocità di esecuzione. Fare un prodotto, portarlo sul mercato, venderlo, raccogliere feedback e ripetere. La velocità di esecuzione è l'unica arma che una piccola media impresa, una piccola media startup ha per tutelarsi quando i competitor copiano. Soprattutto in un paese come l'Italia, dove tutelarsi dal punto di vista del know-how costa molti soldi e contempla tempi molto, molto lunghi. Quando presentammo il nostro occhiale di legno nel 2011 c'erano circa tre produttori di altri occhiali di legno. Ad oggi ce ne sono circa dai 50 ai 60. Ma quando loro presentarono l'occhiale di legno noi presentammo l'occhiale di legno colore con molta personalità. Quando cercarono di copiarci il design e il colore presentammo un occhiale di legno vecchio di 48 mila anni. Quando cercarono di copiare i materiali nobili a quel punto noi avevamo già una catena distributiva strutturata e facendo leva sulla nostra manifattura davamo un servizio di unicità direttamente al nostro cliente. Ad oggi abbiamo un piano di sviluppo prodotti a 30 mesi che risponde a furti di proprietà intellettuali più o meno velata. La terza condizione dopo alta qualità e velocità è non avere il magazzino. Il magazzino è uno spreco di risorse e non avere il magazzino significa salvare l'ambiente. La nostra coscienza ambientale è il migliore consulente o professore di economia del quale possiamo dotare la nostra azienda. Essere eco-friendly non significa avere dei certificati sul proprio prodotto o certificati sul proprio processo ma significa sviluppare una forma mentis che tende a eliminare il magazzino, a ridurre il delta di rilevalorazione congenito del materiale, a ottimizzare la logistica. E questo fa bene tanto all'ambiente quanto più al budget consuntivo di spesa. Soprattutto in un paese come l'Italia dove la prima causa di fallimento per piccole e medie imprese è la mancanza di liquidità nel breve termine. Quindi avere magazzino, ovvero denaro seduto in azienda inutilizzabile, è la peggiore minaccia che possiamo portare in azienda. Il quarto punto, dopo qualità, velocità e zero magazzino, è avere il controllo e la consistenza sui quattro elementi del piano marketing. Il piano marketing sono quegli elementi che utilizziamo per dialogare con il mercato. Sono il prodotto o servizio che vendiamo, dove lo vendiamo, a quanto lo vendiamo e come lo raccontiamo. Faber est sua quisque fortuna. ciascuno è artefice della propria sorte e per essere artefice della propria sorte quando si fa impresa bisogna avere il controllo tanto a monte sulla ricerca e sviluppo, sulla manifattura, sull'acquisti, quanto a valle avere la possibilità di avere le leve che dialoghino con il mercato in termini di distribuzione e in termini di comunicazione. e da controllo a consistenza. In matematica si dice che una teoria è consistente quando è impossibile dimostrare al suo interno una contraddizione. Applicato a una piccola impresa, questo significa che un prodotto bello deve essere venduto in un posto bello, raccontato in un modo bello e presentato al pubblico ad un prezzo che sia coerentemente e consistentemente bello alto. L'essenziale è invisibile agli occhi, diceva il piccolo principe. Un bel prodotto da solo non arriva sul mercato senza laurea di magia data dalla comunicazione e dalla distribuzione. Esistono due qualità, due caratteristiche della qualità. C'è la qualità e la qualità percepita. Dei quattro elementi del piano marketing solo uno porta qualità, gli altri tre, invece, insistono sulla qualità percepita ed è quindi necessario investire di conseguenza. Il quinto e ultimo punto del paradigma al quale aderimmo dopo alta qualità, velocità, zero magazzino e controllo e consistenza sugli elementi del piano marketing è avere esterni in azienda. Ad oggi abbiamo formalizzato un comitato nel quale siedono persone che non ricoprono ruoli direttivi in azienda, non sono immersi nella contingenza in azienda, non sono del settore. E grazie a questo comitato abbiamo avuto la possibilità di avere sempre aria fresca. Il comitato si esprime insindacabilmente a maggioranza e chi come me è inserito nella contingenza dell'azienda è in minoranza. E quindi questo ha permesso a chi come me era inserito in azienda e viveva di contingenza di vedere opportunità e minacce che non avevamo visto. Ed è parlando di prospettive diverse che vorrei prenderne una qui ora con voi. Vorrei fare un esercizio, vorrei provare a testare il livello di consistenza del sistema nel quale siamo inseriti, nel sistema nel quale un'impresa che innova è inserito. Vorrei un po' utilizzare con voi la mia azienda e il mio paradigma come goniometro per misurare l'inclinazione a recepire innovazione da parte del sistema. Se noi facciamo questo esperimento e questo esercizio, scopriamo che ci sono due grosse contraddizioni nel sistema. La prima, mio padre fondò una manifattura circa 40 anni fa. non aveva nulla e quindi finanziò l'acquisto dei macchinari con cambiali. Noi nel 2014, con assunzioni e fatturato in crescita, abbiamo dovuto fare la stessa cosa. Ed ecco quindi la prima contraddizione. Il sistema bancario deve sviluppare il coraggio, il desiderio e la professionalità di riuscire a intercettare e supportare l'innovazione. Strumenti come l'attribuzione del rating basato sulla probabilità di fallimento di un'impresa non possono essere gli unici strumenti per poter decidere a chi o meno dare dei finanziamenti. Il secondo, invece, elemento di contraddizione che mina l'innovazione è un velato fatalismo pessimistico radicato. è una sorta di freno a mano mezzo tirato, una sorta di fiacchezza, frase non finita, ipercautela nei confronti di chi innova. Ed è presente tanto nella classe imprenditoriale quanto nel sistema dove la classe imprenditoriale è inserita ed ora, per forza contagiante, è presente anche sul mercato. L'innovazione nasce dall'azione contemporanea di due gruppi di persone. Il primo sono le persone che desiderano innovare e quelle ci sono. Il secondo sono le persone che decidono di non ostacolare l'innovazione. Ed è solo grazie a questo secondo gruppo di persone che visioni, innovazione, imprese, paradigmi. Nuove imprese anche qui sul nostro territorio potranno avere terreno fertile e moltiplicarsi. Quindi, se abbiamo la possibilità di influenzare il processo innovativo, allora abbiamo anche l'obbligo di non ostacolarlo quando lo vediamo arrivare. Grazie. Grazie.